Buongiorno a tutti, io sono Maurizio e oggi parliamo delle origini del sassofono. Bene, oggi parleremo delle origini del sassofono, però la prima cosa che vi chiedo è iscrivetevi al mio canale cliccando sul pulsantino rosso in basso a sinistra con scritto iscriviti, è molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Altra cosa, se volete studiare il sassofono con me, scrivetemi un'email a maurizioleunisax.gmail.com e finissiamo l'appuntamento. Il sassofono. Partiamo dalle origini. Chi ha inventato il sassofono? Il sassofono prende il nome da Adolf Sachs, belga, nato a Dinanti, un paesino vicino a Bruxelles. Suo padre era un costruttore di strumenti a fiato, quindi lui già da piccolo riesce a tornire dei pezzi di clavinetto a una grande manualità con gli strumenti musicali. Più tardi si trasferirà in Francia e lì, il 22 giugno 1846, brevetterà un sistema meccanico a vento numero 3226. Il primo nome del sassofono si chiamava proprio così. Lui partì dall'idea di sviluppare un clavinetto basso. La necessità era di ottenere un suono più morbido, più largo e anche più potente. Quindi decise di allargare un pochino la campana a clavinetto basso, ma anche di cambiare il canneggio. E per questo si ispirò anche a un altro strumento, lo Figlade, che era una specie di flicorno, però con le chiavi tipo sassofono. E venne fuori questo sistema meccanico a vento 3226. Il sassofono quindi è uno strumento relativamente giovane, perché non gode della letteratura i compositori come Mozart, Beethoven e Bach, perché quando loro erano in vita il sassofono proprio non esisteva. Comunque molti compositori classici scrissero per il sassofono come Maurice Ravel, George Bizet, Claude Debussy, George Gershwin. Anche compositori contemporanei come Luciano Beck, come Ennio Morricone, scrissero per sassofono. Quindi nonostante sia uno strumento relativamente giovane, ha una discreta letteratura in ambito accademico. Questo perché è avvenuto? Perché Adolf Sax fece un lavoro incredibile di promozione dello strumento, perché altrimenti se non fosse stato per alcune scelte di Adolf Sax, il sassofono sarebbe diventato uno strumento abbandonato in un archivio e dimenticato come lo Figlade. Invece lui che fece? Cercò di far inserire all'interno dell'organico della banda militare il sassofono. E come avvenne in questo? Se invece una grande audizione a Parigi ci furono due bande, una una banda musicale senza sassofone e una banda musicale con i sassofoni. E ci fu una giuria per decidere quale fosse la banda con il suono migliore e vinse la banda all'interno dell'organico sassofone. E da quel momento nacque la produzione industriale di questo strumento. Questa è una cosa molto interessante, attenzione, perché da lì, nel 1857, si aprì la prima classe di sassofono al conservatore di Parigi. Quindi Hector Berlioz, il direttore del conservatore di Parigi, affidò ad Adolf Sax la prima classe di sassofono della storia, 1857, conservatore di Parigi. E da quel momento, essendo uno strumento che era diventato comunque accademico e suonato all'interno delle bande musicali, ebbe la fortuna di poter essere suonato, costruito e conosciuto. Beh, grazie per avermi seguito fino alla fine. Commentate, scrivetemi se avete delle curiosità, delle domande in particolare. E seguitemi anche negli altri miei canali, su Instagram, su Facebook. Cerca sempre MonizioLonisax e poi c'è il mio sito internet MonizioLonisax.com dove ci sono tutte le informazioni sui miei concetti, sulle mie attività. Va bene, vi ringrazio. Un saluto a tutti. Ciao.